Mi è mancato non tanto, tantissimo. Il post partita, vero e proprio il giorno dopo dei post partita, è qualcosa di veramente pesante, una sensazione che non ci portavamo dietro da un po' di tempo. Ma eccoci qua, siamo tornati con le nostre pagelline e quindi vediamo un attimino di tornare a ingranare tutto il solito percorso. Sono tornate ovviamente le polemiche, sono tornate le arrabbiature dei tifosi, è tornato tutto, però la vittoria di Riserva ragazzi è importante, è pesante, vedendo anche il risultato del Meazza, di San Sero, di Inter-Napoli. Soprattutto perché tra nove giorni ce l'abbiamo noi il Napoli, mentre c'è in mezzo l'Udinese e c'è in mezzo anche un'altra partita per il Napoli che può regalare anche qualche altra sorpresa e riaprire clamorosamente un campionato. Io l'ho detto anche ieri sera, complessivamente non sono soddisfatto della prestazione ieri e poi nel pomeriggio cerchiamo di analizzare nel dettaglio anche quello che abbiamo visto in campo. Però avete visto la mia live reaction, eh? Gol di Milik, proprio sono impazzito da non capirci più niente, proprio perché sapevo che quei tre punti a Cremona dovevano venire a casa con noi, dovevano venire a casa con noi, dovevamo dare una scossa alla settima vittoria consecutiva, alla settima vittoria senza prendere gol. Non sempre convincente, lo sappiamo, ma era troppo importante, troppo importante perché il calendario, gli incastri, la classifica parlano chiaro. La Juventus adesso non può più fare regali, ne ha già fatti abbastanza e quindi ce li siamo portati a casa questi tre punti in un modo un po' così, però ovviamente sono sempre tre punti. Ragazzi, torna anche il numero 10, quindi vi invito a scaricare l'applicazione dal link che trovate qui sotto in descrizione, proprio perché torneranno dai post partita, quello col Monza sarà sul numero 10 e non sul canale YouTube, in esclusiva sul numero 10. Tornano anche i miei articoli, quindi scaricatevi gratuitamente l'applicazione per leggere anche tutto quello che andrò a scrivere. Oggi abbiamo le pagelle, quant'è che non facciamo le pagelle? Da Juventus-Lastro 3-0 e oggi dobbiamo fare invece quelle di Cremonese-Juve 0-1. Allora, eccoci qua, 5 e mezzo da Allegri perché non mi ha convinto tantissimo la partita di ieri, devo dire la verità, e non mi è piaciuto nemmeno la gestione dei cambi, perché è vero che era necessario inserire Chiesa, è vero che era necessario inserire un'altra punta come Ken, però secondo me ieri si poteva usare anche quella cosina di più perché purtroppo poi, come vedremo anche nel video di oggi pomeriggio, la Juve ha tirato tanto in porta, ha avuto tante occasioni da gol, ma quelle occasioni da gol sono state abbastanza estemporanee, sono state abbastanza leggere, quindi non proprio dei veri pericoli concreti e la Juventus è iniziato a tirare seriamente verso la porta dell'avversario a 30 minuti dalla fine. Sono situazioni che già in questo campionato ci sono costate caro, abbiamo lasciato dei punti indietro in diverse partite e quindi ieri è andata bene che giocavamo in casa contro il penultimo avversario della classifica di Serie A, l'unica squadra in Serie A che ancora non ha mai vinto e siamo riusciti a tirare fuori tanti giolli dal cilindro, come dicevo nella live reaction nel post partita, i vari pali, il gol annullato, la punizione di Milik, li hanno tirato tanto, sì, questo è vero, però ragazzi abbiamo anche rischiato davvero di non fare gol e secondo me si poteva aggiustare in un altro modo la formazione a partite in corso e secondo me questo è una sorta di spunto per il futuro perché credo che in questo momento con i giocatori che sono rientrati, quelli che ora ha a disposizione la Juve anche il 3-4-2-1 possa essere un'arma interessante se non obbligatoria quasi con i giocatori a disposizione per la Juve quindi Legri non mi è piaciuto tanto su tutto questo punto di vista perché sì, ieri abbiamo vinto ma secondo me c'è stata oltre una dose di bravura anche una buona dose di fortuna e gli astri si sono allineati per farci portare a casa questi tre punti che ribadisco sono importantissimi la cosa invece che mi è piaciuta in generale è che comunque questa Juve sta continuando ad andare all'insegna della linea verde e dei giocatori del Vivaio, ieri in pianta stabile tra i titolari avevamo Fagioli, Miretti e Sule sono entrati Ken e Eiling, quindi 5 giocatori della Juventus direttamente dal Vivaio questa è assolutamente invece una notizia positiva che dobbiamo portarci a casa e dobbiamo gioirne perché non capita mica tutti i giorni di avere così tanto contorno più altri giocatori in panchina come Barbieri 6 a Scesni che si fa trovare pronto praticamente sempre tranne in occasione di quel salvataggio sulla linea da parte di Bremer dato che l'orologio a quanto pare davvero non era vibrato quindi la palla non era entrata su quell'errore di Sule in chiusura ma sappiamo che Sule in fase difensiva qualcosa può dare ma ovviamente fa un po' fatica Scesni ha fatto solo quella sbavatura lì con quell'uscita lì per il resto direi che la partita è ampiamente sufficiente che si porta a casa il 6 dopo un mondiale giocato ad alti livelli successivamente abbiamo Gatti 5 e mezzo che devo dire la verità è quello dei 3 in difesa che mi ha convinto meno poi si mangia un gol colossale che vabbè non è il suo ruolo fare gol siamo d'accordo però eri lì dentro l'area di rigore buttala dentro tanto che ci sei Federico per il resto sempre un po' macchinoso sto ancora facendo fatica a digerirlo ma ragazzi quello che dico sempre su Gatti è sempre la stessa cosa e lo dirò per tutta la stagione è la sua prima stagione in Serie A è la sua prima stagione alla Juventus ha sempre giocato in categorie decisamente più basse rispetto a questa e quindi è comprensibilissimo sono contento che comunque Gatti abbia preso il posto di Rugani nel discorso delle rotazioni e vediamo magari Dettura l'ha preso sopra Alexandro chissà vediamo che cosa succederà con l'Udinese 6 a Bremer che non ha fatto secondo me una grandissima partita nella totalità perché tante volte anche De Cerse e Occhere che l'hanno fatto dannare però salva quel pallone sulla riga quel pallone rovesciata sulla riga lo salva lui e comunque lui la velocità la potenza fisica la lotta lui queste cose ce le mette sempre l'impegno io di Bremer sono veramente innamorato probabilmente a volte sono anche un po' troppo positivo sono un po' troppo largo se voglio anche nelle valutazioni con Bremer però Bremer mi ha veramente ridato quell'amore per la difesa che era da un po' che non avevo perché Bremer difende veramente in un modo diverso rispetto a quello che abbiamo attuato negli ultimi anni io ero innamoratissimo di Chiellini ero innamoratissimo di De Litt ero innamoratissimo di Bonucci ma Bremer difende in un modo unico e veramente mi sta emozionando quindi ieri un po' ha sofferto però quel salvataggio sulla riga secondo me almeno un mezzo voto in più se lo deve far portare a casa e invece mi è piaciuto tantissimo Danilo perché ragazzi ieri Danilo ha fatto due o tre chiusure che senza di lui ci faceva un po' fatica a portare a casa probabilmente il punteggio pieno la pagnotta Danilo è un altro di quelli che mi sta facendo reinnamorare della difesa veramente lui non è un difensore centrale lo sappiamo lui nasce terzino destro eppure sta riuscendo a interpretare il ruolo alla perfezione anzi credo che forse il terzo di difesa sia esattamente il suo ruolo preferito il ruolo in cui eccelle maggiormente il ruolo in cui può dare più qualità capitano della Juventus non in senso figurato ma in senso concreto effettivo con la fascia al braccio dato che Bonucci non sta giocando credo che sia uno degli uomini chiave probabilmente ieri anche uno dei migliori in campo poi abbiamo Sule a cui voglio dare sei e mezzo perché è vero che fa quell'errore là dietro nella chiusura dove poi va vicino al gol la Cremonese però ragazzi ripeto è anche vero che questo non è un quinto cioè non è un giocatore a cui puoi chiedere di fare la fase difensiva che ti può fare un terzino ti può fare un deciglio ti può fare un Kostic che gioca lì ti può fare un quadrado che negli anni si è adattato questo ragazzo del 2003 che avrà tre quattro presenze in Serie A cinque presenze con la Juve fantasista un ala un trequartista al massimo se vogliamo un giocatore offensivo una seconda punta immaginatevi Di Bala quinto al centrocampo che non è proprio come Sule perché Sule è sicuramente più esterno di Di Bala però non è nemmeno un quinto messo lì per esigenza d'accordo però lo spunto là davanti te la vado a vedere due volte salta l'uomo diciannovesimo ventiduesimo prende palla punta tira giro due volte il calcio d'angolo dei Carnesecchi una volta magari la palla usciva una volta magari l'ha ciccata male d'accordo però torno a dire un 2003 che non ha mai giocato in Serie A mai giocato nella Juventus e che non è che non gioca nel suo ruolo e quindi gli spunti là davanti li ha avuti spunti questo ragazzo qua ieri li ha avuti e io sono sempre stato uno di quelli che vi diceva ragazzi Sule fino adesso non mi ha ancora incantato non mi ha ancora detto niente differenza magari di miretti fagioli questi qui però c'è poco da dire c'è veramente poco pochissimo da dire gli spunti lì davanti li ha avuti in un ruolo non suo quindi Sule si porta a casa secondo me il 6 e mezzo 5 e mezzo invece per Kostic che è vero che crea dei pericoli è vero perché tira in porta tante volte ma quanta imprecisione ragazzi negli stop nella gestione del pallone nella gestione dell'azione forse anche un po' di lentezza forse anche un po' di gambe pesanti però tante volte avevamo una potenziale occasione che non si è trasformata in tale proprio per leggeressa da parte di Kostic poi ha corso tanto ha corso tantissimo questo gli va dato atto gli va riconosciuto ma non ancora il miglior Kostic secondo me perché Kostic nelle ultime partite premondiale mi aveva convinto salvo poi farsi male anche il mondiale l'inizio non l'ha giocato poi l'ha giocato e adesso avrà sicuramente bisogno di rodaggio comunque il ragazzo c'ha 30 anni e io che ho 30 anni capisco bene cosa voglio dire però ieri non è il miglior Kostic per quanto mi riguarda 5 e mezzo Locatelli non mi è piaciuto tanto anche lui abbastanza impreciso in alcuni momenti poi grintoso in altri ha aiutato molto bene secondo me in difesa però sull'impostazione sulla gestione del pallone siamo ancora abbastanza lontani da quello che dovrebbe fare Locatelli e da quello che ha fatto Locatelli pre pausa mondiale poi ribadisco la prima partita dopo la pausa mondiale quindi capisco che tutti siano ancora imballati compresi quegli altri ovviamente non solo i nostri ovviamente i nostri i partiti mondiali ne hanno giocati Locatelli no però Locatelli ripeto non mi è piaciuto ma forse è stato uno dei migliori a centrocampo anzi forse è stato il miglior a centrocampo perché Fagioli ieri ne ha beccate poche per quanto mi riguarda poi è stato spostato perché parte come mezzala destra poi finisce come mezzala passa mezzala sinistra finisce come trequartista quindi ha fatto un po' tutti i ruoli in campo l'ha fatto girare per trovare un buco quindi non è solo colpa sua però ieri forse un po' troppo emozionato dalla partita da ex non lo so non è stata secondo me la migliore apparizione di Fagioli che ho mai della Juve un altro che invece aveva fatto molto 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 bene prima della pausa mondiale così come mi è piaciuto McCennie che anche lui è un po' troppo in giro per il campo si quantità si grinta si se vogliamo anche take aggressione del pallone qualche recupero però abbastanza lontani da quello che dovrebbe essere un centrocampista titolare per la Juventus abbastanza lontani 5 anche Miretti che è vero che ha avuto delle occasioni ha creato delle occasioni è vero che gli manca sempre quel centesimo per far l'euro a Miretti arriva sempre lì verso la fine e poi non riesce a trovare l'ultimo passo perché comunque lui si smarca bene lui arriva alla conclusione poi ho il tiroglione strazzato ho un po' troppo debole ho un po' troppo angolato ho un po' troppo alto cioè per un giocatore che dovrebbe giocare sulla trequarte come sta facendo Miretti o comunque con gli inserimenti poi non è roba da poco non trovare poi anche qui il discorso è che è sempre un 2003 che noi adesso lo stiamo valutando come effettivo giocatore prima squadra Juve e che già tantissima roba però nel processo di crescita allora gli voglio chiedere anche questo gli voglio chiedere di essere davvero più incisivo perché le occasioni lui le ha magari ha anche un paio di occasioni a partita e poi non riusciamo mai a concretizzarle ci sta la partita in cui non la butti dentro ci sta il momento in cui oh non entra mai però è ora che inizia ad entrare perché se no queste partite si complicano anche per questi motivi qua perché dopo siamo imprecisi e perché non riusciamo a buttare dentro quelle occasioni che andiamo a creare grande Milik ragazzi Milik ha fatto una partita in colore probabilmente fino al minuto 90 poche palle che gli sono arrivate poche palle giocabili però poi il campione fa questo non che Milik sia campione stile Messi Mbappé questa gente qua però si carica la squadra sulle spalle su quel mancino mette tutta la la voglia la speranza della tifoseria Juventina bacia il palo fa gol tre punti d'oro massiccio e quindi nella partita in colore una partita di sofferenza buia in cui la palla non arriva diventa l'eroe della serata MVP della partita e quindi il 7 non glielo toglie assolutamente nessuno Samoyse Ken che entra comunque qualcosina da anche lui molto impreciso a sorpresa in panchina non me l'aspettavo assolutamente in panchina dopo che aveva fatto molto bene nella parte finale nella prima parte di stagione ieri poteva fare secondo me decisamente meglio anche negli ultimi metri e anche nelle sponde devo dire la verità perché poi nell'azione in cui arriva Chiesa al tiro nasce proprio da una sponda errata di Moise Ken da un'indecisione da un garbugliamento di pallone Chiesa 6 e mezzo Chiesa 6 e mezzo perché ragazzi se nelle prime apparizioni post-infortunio avevamo visto un Chiesa comunque grintoso sì forse un po' meccanico ieri abbiamo visto un Chiesa signori tanto ha avuto forse l'occasione vera e propria più grande nel senso costruita bella in area della partita quel tiro là sulla sinistra di mezzo collo mezzo esterno che di rabbia purtroppo va fuori Federico Chiesa lì ho visto lì ho detto questa è una roba da Federico Chiesa ma anche in fase di recupero signori mica pizzefichi poi c'è una clip che vi voglio mostrare in cui Chiesa veramente fa uno scatto forse un po' sprecato in quella posizione sì probabilmente sì allora qui torniamo sul discorso che facevamo prima allora forse 3-4-2-1 può essere una soluzione però Federico Chiesa ragazzi ha avuto un impatto secondo me mostruoso mostruoso sulla partita molto molto bene anche rabbio molto molto bene anche rabbio che è entrato si è messo lì ha messo centimetri ha messo forza ha messo qualità ha messo anche visione di gioco perché quella palla che dà Kostic là con Kostic che taglia dentro gliela dà rabbio quindi bene rabbio ed è lui che va a prendersi la punizione da cui poi nasce il gol del 1-0 della vittoria a differenza da quello che dicevo prima McKennie è ancora un po' troppo poco Locatelli un po' troppo poco Fagioli Meretti un po' troppo poco rabbio invece ha messo il suo e qua c'è scritto rabbio e ovviamente è Paredes ma si becca un 5 si becca un 5 perché appena entra tocco mezza via per Locatelli Cremonese prende palla e ormai fa gol e io dico Dio santo ma sveglia ma finita eh finito il discorso che adesso pensiamo ad altre cose adesso c'è la Juventus adesso sarò anche un po' cattivo ma queste vie di mezzo non mi vanno più bene adesso c'è la Juventus e c'è da pensare alla Juventus se no allora non entri neanche non entri neanche perché se entri molle quell'appoggio lì mezzo mezzo nasce il contropiede per la Cremonese e poi vi voglio far vedere adesso vi mentre carico la la grafica vi dico c'è un'occasione in cui che è questa qui vediamo eccola qui qui praticamente c'è Ken che in area tira Carnesecchi fa il miracolo la palla arriva qui da Paredes che tira di prima rimpallato guardate allora c'è Chiesa che è praticamente pari a Paredes Gatti è praticamente in area ok rimpallata e ora l'azione diventa offensiva per la Cremonese che prima stava difendendo benissimo Gatti sta già rientrando Chiesa sta già rientrando Paredes è lì e rientra ok guardate la differenza di corsa di Chiesa che abbassa la testa e dice cazzo devo andare Gatti che abbassa la testa e dice cazzo devo andare e Paredes concentratevi sulla differenza di corsa dei tre giocatori sta passeggiando io capisco che non sia un fulmine di guerra perché Paredes sicuramente dalla sua non ha la velocità ma guardate qui c'è gli altri proprio buttano giù la testa gambe di corsa sembra una Goku sul serpentone Paredes sta passeggiando ragazzi sta passeggiando io capisco che non sia veloce ma qui allora o non c'è impegno perché magari non c'è impegno voglio essere malizioso va bene oppure non è pronto per giocare una partita perché appena è tornato la pausa mondiale non ha fatto il lavoro questi dieci giorni post mondiale in cui ha mangiato bevuto ballato festeggiato giustamente perché ha vinto il mondiale gli hanno tolto un po' di freschezza atletica e allora è così però è una delle due che allora è un po' quello che l'altro giorno qualcuno mi diceva eh sì però dai secondo te per dieci giorni non è a posto allora ragazzi ditemi voi allora non cioè la scene poi finisce con la cremonese che va al tiro Scesni che va in calcio ad angolo Gatti chiese Locatelli in area Locatelli era l'ultimo uomo e finalmente arriva a parede si arriva insieme a Danilo eh praticamente quindi boh ragazzi io ripeto queste vie queste vie di mezzo mi stanno a darmi un po' fastidio devo dire la verità e concludiamo ringraziando The Farmer che ha fatto una donazione su TP tra l'altro è un servizio che non utilizzo nemmeno più però era giusto ringraziarlo dato che era uno dei privilegi quindi grazie grazie mille The Farmer per il supporto e queste sono un po' le pagelle che non facciamo da un po' di tempo però poi oggi pomeriggio non ci sono solo le pagelle ma c'è anche l'analisi della partita e quindi ragazzi un mi piace a questo video io vi do appuntamento nel pomeriggio per l'analisi complessiva della partita e vediamo un po' cosa ne salta fuori fatemi sapere un po' anche le vostre opinioni qui sotto nei commenti